Allo benvenuti a youtube in 60 secondi Stepney raggiunge un milione di iscritti Dario Moccia fa satira su youtube prendendo in giro challenge, canali di make up e gameplay Tutto questo per introdurre alla sua intervista gli autori del fumetto di satira religiosa Don Zauker Il 9 dicembre è uscito youtube rewind 2015 in cui youtuber provenienti da tutto il mondo Si sono riuniti per realizzare un videoclip contenente tutto ciò che è successo durante l'anno Murricci svera gli oscuri segreti dietro la trasmissione televisiva Art Attack Intervistando il suo idolo d'infanzia Giovanni Mucciaccia Molti creatori di youtube hanno rilanciato su twitter l'hashtag la repubblica dei ladri Per denunciare la pratica di molte testate che scaricano dal web contenuti e li ricaricano monetizzandoli Spesso senza neanche citarne gli autori, brutti farabutti che non siete altro Sul canale di Marco Burberi è uscito l'undicesima puntata del Folletto Burbero Questa volta affronterà di persona la causa che tormenta il suo passato E il vincitore del sondaggione settimanale sono i Wikinauti insieme a Matioschi Con il loro video 30 cose che non sai su Star Wars Bravi ragazzi Youtube in 60 secondi termina qui Un saluto dal vostro pica palindromo affezionatissimo Ciao Ah e se non ci rivediamo prima buone feste e buon Natale Ciao 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 Ciao